Sono una persona onesta ma non buona. L'importante nella vita è essere giusti. Quando sarò certo di essere una persona giusta, cercherò di diventare anche una persona buona. Questo in poche parole il ritratto che Don Antonio Mazzi traccia di sé. Il fondatore della comunità di recupero dal disagio sociale Exodus ha partecipato ieri a un incontro organizzato dalla business community Cremona Inn, rete che attraverso i propri eventi mette in relazione i rappresentanti di molte delle aziende del territorio provinciale. Tema dell'incontro ma dopo Natale dobbiamo ancora essere buoni. Tanti temi toccati durante l'evento in una gremitissima sala conferenze dell'Hotel Continental. Dal ruolo e dignità della donna all'importanza della parola e del dialogo fra le persone e all'interno della famiglia. Dialogo che secondo Don Mazzi spesso cellulari, computer ma anche radio e tv rischiano di interrompere. La televisione soprattutto. La televisione è entrata in casa sottovoce, sottovoce, sottovoce e adesso è diventata la padrona soprattutto della parola. Quindi non sto qui a dire quali sono i programmi migliori o i programmi peggiori. Io dico che a un certo punto bisogna avere il coraggio di farla tacere e deve tornare la parola calda, vera, autentica. Senza la parola non si cresce, senza la parola non si vive. Poi una serie di riflessioni sul momento difficile di crisi che stiamo attraversando come paese, come società, come comunità umana tutta. E un invito a vedere questa non come una crisi economica, sociale e di valori, quanto piuttosto come una crisi antropologica. Se noi, spiega Don Mazzi, non riusciremo a capire ciò che ora guardiamo con sospetto, non potremo in alcun modo guardare positivamente al futuro.